La ciotola Piazza Marinai d'Italia 10 a Portoferraio Dopo i venti che hanno colpito l'Elba nella giornata di ieri il maltempo è in attenuazione, ma qualcuno conta i danni. Dopo lo yacht finito sulle scoglie a magazzini a Portoferraio, per fortuna senza conseguenze per i due diportisti, anche Marciana Marina fa i conti con il maltempo. Il mare infatti a distanza di anni è tornato a colpire il rione del cotone e il colorato borgo con le case a picco sul mare. Nel versante est del paese, ieri la furia del vento di Maestrale ha provocato onde che hanno spaccato il muro del rione. L'acqua ha lagato alcune abitazioni che si trovano sul mare. Nel palazzo all'estremo della punta ha anche infranto la vetrata dell'appartamento facendo entrare l'acqua, che si è fatta strada nei locali per poi riuscire. Danneggiata anche la foce del fosso di San Francesco, che passa da Piazza Vittorio Emanuele. Nella mattinata di stamani i venti hanno continuato a spirare da quadranti nord, virando da Maestrale a Greco Tramontana. Intorno alle 10 la stazione di rilevamento di Monte Perone registrava una velocità di 82 km orari. Passati nel pomeriggio intorno ai 45. Il maltempo è comunque in attenuazione.